Buonasera, 21.15 con Mario Zwirner, non mancate, ci saranno anche donne in studio, affronteremo anche questo aspetto del problema che oggi non abbiamo fatto in tempo. Io ringrazio Giuliana Beltrame di essere stata con noi quest'oggi, dipendente di sinistra, accanto a lei Matteo Corbo del Partito Democratico. Grazie davvero per essere stato con noi, grazie a Giuseppe Stoppato della Lega Nord, vice sindaco di San Giovanni di Lupatoto. Grazie a Federico Alati, popolo della libertà, assessore in comune di Giasimo in provincia di Padova. Grazie davvero anche a Giuseppe Stoppato, anche se ancora una volta il tema non era federalismo, secessione, queste cose. Le chiedo scusa a Lodovico Pizzati, ma tanto ho messo il suo nome un po' dappertutto e ho messo quello di un altro sotto il suo nome. Le chiedo davvero scusa a Lodovico Pizzati, Veneto Stato, per essere stato con noi, che ha lavorato a questa commissione e rendendola possibile. Studio, regia, messa in onda, che ha risposto alle vostre telefonate e vi ha passato in diretta.